È veramente uno stilicidio tutte le mattine i titoli sulla situazione che riguarda Gigio Donnarumma. I miei colleghi autorevoli, attenti, vanno a cercare notizie, si informano, cercano di capire come finirà questa annosa vicenda, ma veramente è uno stilicidio. È uno stilicidio perché si ignorano troppe cose. Una cosa è certa, il Milan ha offerto 8 milioni di euro a Gigio Donnarumma per almeno due anni. Si dice che Donnarumma voglia 10 e oggi la notizia è da parte di qualche autorevole collega che ci sia un'offerta di 12 per Donnarumma. Dalle informazioni che ho io ci sono dei dubbi che ci sia questa offerta, però qualcuno dice che ci sia, quindi mi metto alla finestra e leggo che ci sono questi 12 milioni di euro. Se ci sono questi 12 milioni di euro, allora giunti a questo punto, spero che qualcuno esca dicendo, signori, io ho un'offerta maggiore e nella vita professionale di tutti, d'accordo l'amore, d'accordo, ma se ci fossero veramente questi 12 milioni, signori sapete che fa parte del gioco, io vado a prendere più denaro perché sono un professionista. Io non mi sono mai scandalizzato sul denaro. Io so che degli attori prendevano ai tempi dei miliardi per un film 20-25 miliardi. È la legge dello showbiz e quindi si conducono, si portano persone a vedere i film, a vedere spettacoli anche sportivi e più uno è bravo e più è giusto che guadagni. È sempre stato così. Nelle professioni, nel calcio, un grandissimo chirurgo chiaramente ha delle tariffe superiori perché è un grandissimo, i grandissimi in generale dei quadri, nell'arte, nelle professioni. Quindi nessuno scandalo, nessuna demagogia. Però ci fosse veramente un'offerta irrifiutabile, lo si dica e si prosegua e si andrà con un'altra situazione. Io spero ancora, io spero ancora nel lieto film. Quindi, il Io sono convinto che Gigio Donnarumma voglia, possa rimanere, però mi auguro che ci sia presto un segnale, un qualcosa che finalmente, anche perché 12 milioni non so se veramente come qualcuno ventila ci siano, e dunque io mi auguro proprio che ci sia una happy end, però l'idea che tutto questo, e ve l'avevo già detto, che verrà risolto sicuramente prima degli europei, ecco, che tutto questo va davanti ancora un mese, e meno male in questo senso se c'è non una mezza cosa, un quarto di cosa, per cui forse in questo momento lo stadio vuoto può aiutare la situazione, è proprio la situazione di Gigio, ripeto, tanto così vorrei San Siro pieno, fra un minuto io, fra un minuto, però immaginate la situazione di oggi, che cosa potrebbe succedere con i tifosi dietro la curva, io non voglio nemmeno pensarci, però il Milan va avanti, e giovedì, vi ho detto entro il 15 di aprile, la firma di Ibrahimovic per il rinnovo di un altro anno con il Milan, poi ieri vi ho detto attenzione, perché poi le notizie, ieri mi avevano detto attenzione, se ne erano presi tutti calmi i 15 giorni, invece ieri mi avevano anche detto, no sarà forse entro la fine della settimana, e io senza, tanto non prendo la medaglia se indovino il giorno, però giovedì dovrebbe essere il giorno 8 aprile, il giorno della firma di Ibrahimovic un altro anno al Milan, e ci auguriamo che questa firma possa scuotere l'ambiente e proseguire dunque tutti insieme, tutti insieme per un'altra stagione, tutti i Raioliani, Romagnoli, Donnarumma, gli Stipicciani, Stipic è il procuratore di Cialanoglu, per un Milan sempre forte, quindi giovedì 8 dovrebbe essere il giorno della firma. Intanto il Milan si allena e c'è la buona notizia, ed ecco le notizie di campo, del recupero totale di Leao che si è allenato in gruppo, meno male un rinforzo per l'attacco, un po' anemico senza Zlatan Ibrahimovic. Dunque giocherà probabilmente Revic, ma Leao pronto a subentrare, con Aughe che adesso è tornato diciamo col morale alto dopo il gol contro la Sampdoria, gol decisivo, è un pareggio importante psicologicamente, anche se la prestazione non è stata certamente aulica. E poi stanno correndo fuori Diaz, che è quello che recupera la prima appena non ha più dolore nel calciare, anche Romagnoli e Mandzukic, che quindi stanno correndo fuori, quando escono dalla palestra è un buon segno. Corsa, prossima tappa, allenamento in gruppo. Mandzukic che manca da troppo tempo per dare una mano al Milan, anche perché poi, ripetiamo il calendario, vedrà la partita col Parma, la partita col Genoa, l'infrasettimanale col Sassuolo, prima dell'altro fondamentale impegno con la Roma, anzi scusate, a Roma con la Lazio. Quindi questo è il programma, buono il recupero e speriamo che qualcosa si muova molto prima degli europei per la questione Donnarumma, perché è veramente angosciante. Io faccio il tifo straordinario per Gigio, per Gigio Prodigio, per anche domenica scorsa una parata straordinaria. Speriamo che Milano ha pazienza, aspetta, ha fatto l'offerta, attende risposta. Speriamo che la risposta sia positiva, magari il prima possibile. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi anche alla YouTube di Carlo Pellegrado.